Ormai ci siamo, mancano poche ore a Ecologica, l'evento organizzato da Espansione TV. Sarà un sabato all'insegna della sostenibilità in cui si parlerà della città del futuro e sarà una giornata ricca di iniziative con test drive per gli adulti e laboratori per bambini. L'evento si svolgerà nella sede di ETV in via Santa Bondio 4 a Como. Al mattino dalle 9.30 è in programma un convegno dal tema la sostenibilità nella città del futuro. Previsti interventi e testimonianze di alto profilo con docenti universitari, uomini di impresa, addetti ai lavori e divulgatori. Alla conferenza interverranno Giampiero Mastino, professore di costruzione di veicoli al Politecnico di Milano, Paolo Corazzon, meteorologo e divulgatore scientifico, Alessandro Arezu, consigliere scientifico di Limes e ancora Andrea Durante di Eldor Corporation, Massimo Bertazzoli, amministratore delegato di ASF Autoline, Corrado Bina, amministratore delegato di A5 Innovazione, Sergio Beretta, architetto e Massimiliano De Rose, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Como. A moderare l'incontro la giornalista Francesca Galbiati. Al pomeriggio poi dalle 14.00 l'evento prosegue con due iniziative. Nell'auditorium i più piccoli potranno imparare divertendosi il concetto di sostenibilità nel laboratorio allestito dai ceramisti della fornace Fusari. L'attività è riservata ai bambini dai 2 ai 12 anni. Intanto gli adulti potranno provare e mettersi alla guida delle migliori auto elettriche attualmente sul mercato. L'evento è patrocinato dal Politecnico di Milano, dal Comune di Como, dall'Ordine degli Ingegneri e dall'Ordine degli Architetti della provincia di Como. Tutte le iniziative, lo ricordiamo, sono gratuite e aperte al pubblico. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, le persone interessate possono scrivere all'indirizzo di posta elettronica ecologica chiocciola espansionetv.it